Questo reggiseno nasce da un mio disegno, ho avuto l'intuizione di fare questa cosa. È una struttura ingegneristica unica al mondo, in quanto unisce un reggiseno, un bustino e come vedete un vendaggio. Questi quattro quadranti brevettati offrono la possibilità di adattare il bustino a ogni misura di circonferenza, semplicemente allargando queste stringhe. Davanti si può aprire e chiudere facilmente per le medicazioni. Questo incrocio consente al seno di rimanere bloccato per tutto il periodo del posto operatorio. Quindi una donna si sente bloccata, protetta, fino alla completa guarigione. È tutto made in Italy, è frutto di una tradizione delle antiche bustaie, unito con le più moderne tecniche tessili. È elastico, traspirante e soprattutto confortevole.